Ciao a tutti fringuelli! Finalmente Varysel ha commercializzato la tanto attesa NCR-CF, ovvero una bicicletta molto versatile ad un prezzo molto contenuto di soli 1599 euro. Telaio e forcella sono in carbonio per assorbire al meglio le vibrazioni, ridurre il peso e andare incontro anche alle prestazioni. L'acronimo NCR sta per Neo Racer, CF sta per Carbon Frame. Varysel afferma di aver costruito la sua bicicletta, diciamo così, tuttofare. Con questa bicicletta infatti sarete in grado di cercare prestazioni su strada o montando dei pneumatici fino a 35 mm di portarla su gravel veloci. Il prezzo è sicuramente competitivo per una bicicletta tutta realizzata in carbonio, sto parlando di telaio e forcella, la componentistica è ancora in alluminio, ma volendo si può fare anche un upgrade aftermarket. Quello che mi colpisce è anche l'allestimento, un gruppo completo Tiagra che riesce comunque a dare buone prestazioni mantenendo contenuto il prezzo. Il telaio verniciato in taglia media pesa soltanto 1203 grammi, anche la forcella in carbonio verniciata in taglia media pesa 413 grammi. Osservando il telaio, le sue dimensioni e gli angoli dei tubi, è possibile ridurre che la posizione in sella della nuova Varysel Erne CR-CF è una posizione aggressiva, proprio perché Varysel non vuole sacrificare le prestazioni. Attenzione però perché questo è solo l'allestimento di lancio, successivamente sarà disponibile anche con un gruppo SRAM Rival AXS, siamo intorno ai 2850 euro, mentre arriverà anche un gruppo SRAM Apex e il gruppo Shimano 105, questi però arriveranno a fine anno. Per quanto riguarda questo modello, con il gruppo Tiagra si ha una doppia corona 48-34 denti, una cassetta pignoni e 10 velocità, 11-34 denti. Il modello in questione monta delle ruote Mavic Axion con pneumatici da 28 mm, che come abbiamo detto possono essere estesi fino a 35 mm. Insomma fringuelli, come avete visto Varysel sta facendo davvero le cose in grande, anche sul modello definito Allround. Comunque questo modello dal valore di 1599 euro monta il gruppo Shimano Tiagra. Se questo gruppo, se questa dotazione tecnica non dovesse essere di vostro gradimento, tra luglio e dicembre usciranno altri tre allestimenti, ovviamente con i prezzi proporzionati. Quindi tenete gli occhi aperti, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento alla prossima, ciao! Ciao!